C'è questa volta una donna con un potere fantastico. Lei può scegliere un prezzo notte-giorno oppure un prezzo unico per l'elettricità. E chissà che cosa farà con quello che risparmia. Sorgenia scrive una nuova storia dell'energia e ti offre Libero24. Per 24 mesi il prezzo della componente energia non aumenta ma può solo diminuire. E più tempo stai con Sorgenia più risparmi. Chiamalo 800 920 920 di Sorgenia.